Crispiano, ridente comune della provincia di Taranto, celebra il centenario, cent'anni di vita. E' allora una grande festa, festeggiamenti in grande stile il 14 di novembre. Siamo con il sindaco Luca Lopomo. Come vi state preparando e facciamo un appello per vivere tutti quanti insieme la gioia, l'atmosfera, l'ebbrezza di questi cent'anni? Sì, ci stiamo preparando già da un bel po' di tempo. Una celebrazione molto sentita, alla quale stanno prendendo parte con il loro contributo tutte le associazioni di Crispiano. Tutta la comunità ha sentito forte, le scuole hanno sentito forte questo evento. E quindi arriviamo a questi cento anni con tante idee, tante belle celebrazioni. Momenti folcloristici e momenti culturali? Momenti culturali? Cominceremo dalla mattina del 14 novembre con la presentazione di un bellissimo libro, I miei primi cento anni, in sala consigliare alle dieci e mezza. Nel pomeriggio invece ci sarà un gran raduno di tutte le associazioni. Dalle 15, davanti alla parrocchia di Santa Maria Goretti, si partirà alle 15.30, 15.45. attraverseremo tutte le strade di Crispiano, in particolar modo arriveremo in via 14 novembre, che prende il nome proprio dalle celebrazioni del centenario, e poi davanti alla parrocchia di San Francesco taglieremo il nastro della nostra Capsula del Tempo. Una Capsula del Tempo rappresentata da un tradizionale capasone, nel quale poi avremo tempo da qui fino al 14 novembre del 2020 per depositare tutte le cose più importanti che questa comunità vuole lasciare a chi abberrà fra 50 anni. Poi ci sarà una solenne celebrazione liturgica, una messa, mi dica il resto. Dopo la messa ci sarà un bellissimo regalo fatto dai bersaglieri, che hanno portato qui la fanfara dei bersaglieri, che avrà il piacere di sfilare per via Roma fino a Piazza Malonna della Neve, e poi ci trasferiremo tutti nel nostro bellissimo teatro per il gran concerto lirico della nostra cantante Tonia Cifrone, che ci ha fatto un regalo bellissimo con il maestro Cuccaro al pianoforte, e durante questo bellissimo concerto ci saranno tante sorprese. Bene, i cento anni di Crispiano, tutti da vivere, un momento di grande aggregazione, il 14 novembre. Il centenario del comune di Crispiano si veste di eleganza, e di stile attraverso una grande iniziativa, appunto il gran concerto, che si terrà giorno 14 novembre alle ore 19 presso il Teatro Comunale. Ho al mio fianco Antonia Cifrone, soprano, quindi sarà una interprete di altissimo livello. Il suo stato d'animo per celebrare questo evento, perché offrirà uno spettacolo, certamente un musicale di altissima qualità, ma anche batterà forte il cuore per questi cento anni, che vogliono dire tanto a livello di storia, di tradizione, di sforzi di una intera comunità. Beh, sicuramente è un traguardo importante per Crispiano. Io sono crispianese, seppur di nascita tarantina, però... Di adozione. Sì, sì, sono crispianese ormai da tantissimi anni. Certamente è una grande emozione, perché è il mio paese, per cui sono felice di regalare questo... Insomma, sarà una serata tra amici, ecco. Sono orgogliosa di regalare al mio paese... Magari in quei momenti le verranno in mente tanti ricordi della sua vita, della sua infanzia, dei momenti vissuti appunto presso Crispiano. Tanti flashback. A voglia, ma è pieno, ovunque... Ma d'altronde io vivo qui ancora, ho casa qua, quindi i ricordi sono sempre presenti, è attuale, non sono solo ricordi. Il forte legame con la terra, con il luogo natio. E allora, ricordiamolo, il 14 novembre, grande celebrazione del centenario del comune di Crispiano, con il gran concerto alle ore 19 presso il Teatro Comunale. Non mancate. Grazie.